e la fatta io sono artefacts e benvenuti in questo primo episodio degli anger games lezione su kit con alessio 2 4 3 5 scoppa tutti tutto dunfiato ok in questa nuova serie andremo a spiegare vari kit tutti kit dell'anno degli anger games ecco degli anger games sphx partiremo con il primo kit il vikingo in pratica un diamond eviterà un diamond d'axe o per lasciare in diamante xe comunque fa un elmetto in pelle e quando uccideremo un giocatore verremo curati la fame si ristaurerà un pochino ok andiamo a prendere questo kit io l'ho già preso comunque adesso facciamo una sfida personale con tutti gli iscritti dovete dirci che cosa vorrebbe dire per voi l'acronimo di sphx per me so pecorati hard xxx xxx so può essere so pecorati harddix xxx non ci ho mai pensato le zucche le zucche le zucche no 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 non si devono rompere assi non avevo detto una cosa se voi uccidete un porco non vedrà niente dicevo se voi uccidete una persona lascia inizialmente scomparirà però poi verrà rigenerata in pratica perchè non è l'utilizzo proprio e quadratico dell'ascia quindi ve la restituirà ok poi ci siamo d'indicati anche di dire una cosa i pochi 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 vieni asciattano maialozzo oppure mi vedi ovvero questa serie saranno disposte da due persone opero da meta alessio m sarà un episodio da me e un episodio da lui ovvero il kit il primo kit sarà sempre da me e il secondo da lui ok i p i kit dispari saranno da me c'è il leo f tv che ci sta insegnando ok vedete che lascia si appena riformata che avevo uccidiamo il leo f h laga scusa mi sta lagando ecco l'ha appena ucciso di video no non l'ho ucciso non l'ho ucciso mi si è spappata lascia tipo non ce l'ho più in mano ah ok basta tagliare proprio no 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 è che avevo lascia mezza lei rotta hai ucciso no ciò fa per ma purtroppo devo fare una spada io perchè eh ma fa più sta lagando eh si marta mi lascia mi lascia tizzo dai da mi lascia no 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 si va bene magari ok adesso io se a me è capitato un bar occhi sono avete visto ragazzi quindi che la fame si è curata infatti mi manca un tracosciotto adesso mi manca solo una e ho preso dalle malcapitato 40 smeraddi stavano uscita mi stavano uscita mi stavano uscita ho preso 40 smeraddi malcapitato ora decomezzo 4 pedo di futuro che parte pado attiva un po' di lagattina se io stavo morendo per il lag martina per che ma è confronto che successaxxxvxxxxvvxv comunque sei infatti questo coordinato tripurg eseum mini che Randallmar mille posso farla punto masola mescadara практи un po oppure anche a te hoop e scola 15 traciti arti arti, piper per esempio pete si. sto sono in una caverna sotterranea ok c'è un altro c'è belf che ha tanta brava si era quello il tizio che ti dicevo io che chi lato ok perfetto arti io ti ho dato al team l hg non mi insegneremo solo i kit disegneremo come sopravvivere si anche nel perchè se già si segue cioè se ci seguite già da almeno tipo due mesi circa si avete visto che spesso io e arti vabbè timiamo sempre logicamente però oppure arriviamo anche almeno tra te di solito anche a vincere però puntiamo sempre ad arrivare almeno agli ultimi e quindi vi cercheremo di insegnare anche la nostra esperienza personale fa per dove sei che io con la bussola non ti posso vedere 37 125 di ordinate si ma trovami a sto punto 37 dove non sei neanche tanto distante ma vi mi incontro con la bussola che sto per voler fare una storia mi sto alla gamba me t ok mi ha la casa m ci sei ancora se ok guarda che faccio come sbagliato ma la capo anche a testa maniera epica oppure affappato mi sto alla gamba guarda che faccio quindi qui vieni qui ti dico se mi segui ci non posso ah è un erdager commerciaci commerciaci con 40 smeraldi meloni 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 no e meloni c'abbiamo il cibo per quello ma meloni a poco la carla meloni delle pdl intendi e può essere lo chiederemo 4 meloni questo meloni occhi di nasce si non ce ne fa un cazzo a parte che il contrario sono le enderparle che diventano chi di acquisto ce l'ha la resta sono i figli di defa per se mi chilo tutti capito perchè devi ci moris per prendere tu mori per secondo fa più cosa mi commerci la vuoi una cosa che vuoi una cosa una spadina sb no c'è già anche io ea pietro dai segui poloni poloni bro poloni papapam papapam ok allora un suggerimento innanzitutto le talpe che è il nome in gioco che si dice per quelli che vanno a scavare ma vanno sottoterra anche abbastanza non i tipici 23 blocchi ma le talpe ok spada spada allora tenetemi distanti da queste situazioni attaccate da dietro quando vedete che si è distratto quell'altro tipo deciso no mi ha sciottato amiche ho fatto amiche ho fatto amiche ho fatto così come indio sono il paese avrete visto che insomma conviene attaccava via parte su un fail vivente però il confine attaccare quando il tipo diciamo che avete puntato in questo caso erano night era girato però qui abbiamo avuto sfiga che porta posta facendo una battaglia con un tipo ma sono un mostro ok vediamo arti come messo ci sono nove persone vediamo arti può anche riuscire a vincere sto fatto ok ho visto un villager che veniva contro di me perfetto non fate la testa ma come sto facendo io rifugia di tipo qua sotto farò vedere poi dal mio punto di vista quello che sta succedendo anche ad alessio nel mio video cliente per lo andrà a vedere perchè non mi interessa tanto di lui ma sono sono un fapper perchè tipo ho detto una cosa giusta cioè di attaccarlo mentre in difficoltà però sono morto muovo ok ragazzi vedete grazie all'aiuto degli amici voi uccidete unite ti sei messo full ferro con spada di diamante presumo adesso e con la pozione di forza in mano oh no c'è il tricoco dentro il server non penso che potrò ping il tricoco è cattivo coltivo ho fatto paura il tricocchi sono degli animali molto cattivi non c'è un'altra cosa mi dà no se la parte con quel tono proprio non lo faccio da no adesso a pallone i diamo troppo non tricoco perchè la persona più vicina a me il sapone ma è vero che se fai i suoi due tanti sì che tra l'altro non ho ancora capito cosa vuol dire fai swag ma dettagli però lo faccio è qualcosa che dicono quelli i fan di non mi fa più si chiama di me la godo se non erro comunque è uscito un video di artifex attenzione contest di dota 2 vediamo se ho vinto il contest xdxt ok no il contest numero 35 35 no non ho vinto ok basta basta arti vorrei giquittare la chiamata ok ed era un video serio inizialmente soprattutto però arti arti si è fappato fappifex sei morto fappifex fappifexino ahahah digest no si è stato di sé sapato violento il microfono mi sto dando la colpa come dico davanti a me quasi io avevo deciso che dovevo reggi quittare la chiamata dopo che ho scoperto di non aver vinto il contesto della che di dota 2 siti hanno sentito si mette non ho sentito che fanno da solo contro il tricoco mista super laggando non di connessione con l'acqua sono molto ragazzi contro il tricoco prendermi anche la pozione di forza vedete quanto è forte il tricoco non affrontate mai il tricoco e bangeri quando sono insieme quindi ragazzi per questa lezione sugli anger games è tutto da artifex da artifex artifex si disattiva il microfono ogni tanto te lo devo dire fattore da artifex e alessi è tutto bye bye e ciao a tutti